Buongiorno a tutti carissimi amici e ben trovati con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi dagli studi di Belluno ci sono io Martina Reolonne e come al solito andremo a dare uno sguardo alle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Partiamo oggi dal Corriere delle Alpi in cui si parla di mondiali che ormai si avvicinano, mancano meno di dieci giorni, mondiali di sci di Cortina D'Ampezzo. Si parla anche ovviamente purtroppo di coronavirus e poi di turismo bianco, del circo bianco, della rabbia degli imprenditori. Ma andiamo subito a vedere il Corriere delle Alpi di venerdì 29 gennaio. Ecco la prima pagina. Il provvedimento ci sono i mondiali, stop ai tir, questo è il titolone di apertura. La prefettura pronta a vietare i trasporti internazionali su Alemagna e Carnica, via libera agli arrivi e alle partenze locali. C'è un approfondimento di De Barba e Segafreddo che dopo andremo a leggere. La foto di copertina è dedicata alla rabbia e alla sfiducia degli imprenditori del turismo bianco che chiedono aiuto. Una foto scattata in Nevegali, in questo caso con lo sciamano Gianni Bonesso che suona il corno di protesta. La foto è appunto sulla prima del Corriere delle Alpi e a pagina 6 e 7 c'è l'approfondimento. Per quanto riguarda il coronavirus, ieri durante la consueta quotidiana conferenza stampa di Zaia, la dirigente della sanità Francesca Russo, la dottoressa Francesca Russo, ha presentato dettagliato quello che è il piano regionale dei vaccini anti-covid. Via la fase 2 dei vaccini, gli ottantenni dal 15 febbraio e c'è l'articolo a pagina 2 che andremo a leggere tra pochissimo. E nel caso specifico di Belluno ci sono le dichiarazioni del direttore del dipartimento di prevenzione Cinquetti che dice che il virus arretra da capodanno positività calate di oltre l'80%. E andremo a leggere anche questo articolo. Ci fermiamo prima sulla questione vaccini. Ecco qui il titolone a pagina 2. Il 15 febbraio con gli ottantenni inizierà la fase 2 delle vaccinazioni. Definito il calendario delle chiamate si parte dalla classe 1941. Primo obiettivo completare il richiamo agli operatori sanitari. L'articolo è di Albino Salmaso. Vaccini avanti tutta con la fase 1 e dal 15 febbraio ambulatori aperti agli over 80. Si comincerà con i 43.346 nati nel 1941 convocati con lettera negli ambulatori delle urso, nei padiglioni delle fiere trasformate in mini ospedali. Quindi con gli ottantenni nati nel 1941. Se tutto fila liscio, entro metà marzo il Veneto avrà vaccinato completamente 362.000 persone. Fino ad oggi sono 33.926 quelle che hanno già effettuato il richiamo. Quindi già la seconda dose del vaccino. Ricordiamo che il vaccino Pfizer richiede appunto la somministrazione in due dosi. Mentre l'Unione Europea litiga con AstraZeneca, accusata di privilegiare la Gran Bretagna e di non rispettare i patti con Europa, Zaya con la sua squadra aggiorna la tabella di marcia perché confida nel rispetto degli accordi con Pfizer e Moderna. E appunto ci sono i patti sottoscritti. Il commissario Arcuri ha assicurato che da primo febbraio il colosso americano tornerà a produrre a pieno regime nello stabilimento in Belgio per consegne regolari ai 27 paesi dell'onore europea. Nessuna lite in tribunale, il taglio del 20% verrà recuperato grazie alle nuove linee tecnologiche che consentiranno di produrre 2 miliardi di dosi anziché 1,2 miliardi. Questo significa che entro il 22 febbraio all'Italia arriveranno 1.753.830 dosi Pfizer, 143.477 delle quali al Veneto pari all'8,18%. Nessun problema con il vaccino Moderna che ha garantito 651.600 dosi di cui 53.306 destinate al Veneto. Tirate le somme, siamo a quota, quindi considerando entrambi i vaccini, 197.210, mentre a fine febbraio si potranno somministrare 250.000 dosi. E ancora, sempre per quanto riguarda la situazione in Veneto, la fase 1 prevede di mettere in sicurezza le persone che lavorano nel campo della sanità, quindi negli ospedali, delle US e dell'USCA. Obiettivo quasi raggiunto con il 70% dei vaccini somministrati a queste categorie. Poi si passa alle case di riposo che hanno ricevuto 16,8% delle dosi, mentre agli amministrativi delle US è stato riservato l'8,7%. Per gli over 80 si è appena allo 0,3%. L'assessore Lanzarin, l'assessore alla sanità della regione, ha ricordato di aver chiuso la polemica con l'ordine dei medici che chiedeva precedenza assoluta nella lista delle convocazioni. Gli amministrativi svolgono un ruolo fondamentale, mentre i medici di base hanno pattuito un compenso di 6,5 euro per ogni vaccino somministrato. Continuiamo poi con il calendario. Quindi il 15 febbraio si partirà con la convocazione dei nati nel 1941, che all'anagrafe in Veneto sono 43.346. e nell'arco delle tre settimane successive verranno convocate altre 133.571 persone, nate rispettivamente nel 1946, nel 1940 e nel 1945. E per quanto riguarda i novantenni, sono in larga parte ospiti delle case di riposo, quindi vengono coinvolti nella fase 1. Nella lista delle priorità entrano i malati oncologici e trapiantati e altre categorie particolarmente fragili. Andiamo avanti. Ah, ricordiamo che prima di addentrarci nelle questioni che riguardano il Covid e la pandemia in provincia di Belluno, oggi ci sarà la sentenza, tra virgolette, il verdetto sui colori delle regioni. Piemonte e Lombardia restano arancioni, si legge nel titolo a pagina 3. Calabria, Veneto ed Emilia Romagna sono quasi sicure di tornare gialle, oggi la cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità. I cambi di colore sono molto attesi delle attività economiche, a partire da bari e ristoranti costretti al solo trasporto. Se Calabria, Veneto ed Emilia Romagna sono quasi sicure di tornare gialle, rischiano invece di rimanere in zona arancione, Lombardia, Lazio e Piemonte. Quindi oggi ci sarà appunto, come dicevamo, il verdetto. Andiamo nel bellunese. Crollano i casi di positività nel giro di un mese, meno 81%. Ieri i contagiati erano 851, il primo gennaio avevano toccato quota 4.470. Il vaccino Moderna sarà utilizzato sabato nel drive-in al San Martino. Queste sono le dichiarazioni di Cinquetti per quanto riguarda il territorio bellunese e l'articolo di Paola Dallanese. Crolla il numero di bellunesi positivi al Covid. Dal 1 gennaio a ieri si è passati da 4.478 a 851 casi, un decremento dell'81%, che non si era visto neppure nella prima ondata epidemica. In aumento giocoforza il numero dei guariti. Nei primi 28 giorni dell'anno si è passati da 10.074 a 15.797 casi, quindi più 56%. Dati incoraggianti che lasciano ben sperare. Unica nota dolente resta l'aumento dei decessi, che dai 429 di Capodanno sono saliti ai 522 di ieri. Quindi in meno di un mese 93 decessi in più. E anche ieri, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 6 decessi, purtroppo. Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione, è ottimista, ma con cautela, perché con un virus non si può mai cantare vittoria troppo presto. Siamo di fronte a un vistoso decremento dei casi di contagio, cosa che riflette, tra l'altro, il calo delle nuove positività, precisa Cinquetti. In poche parole, il calo dei nuovi contagi e l'incremento dei soggetti guariti determinano una riduzione importante del numero totale dei casi di positività e dei bellunesi in isolamento. Per quanto riguarda i vaccini, prosegue senza sosta la campagna. Finora nel territorio dell'Ussuno sono state somministrate 8.832 dosi di vaccino Pfizer. In provincia hanno completato la profilassi 2.424 persone, cioè le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Ma la novità riguarda il fine settimana. Se domenica si svolgerà il drive-in vaccinale a San Martino per la somministrazione della seconda dose al personale e volontari del 118, per domani è stata organizzata una seduta di immunizzazione per i dipendenti dell'Ulss che operano nei distretti e nella prevenzione e di altri sanitari che rientrano in amministrazioni pubbliche, quali ad esempio l'Inps. Per i drive-in di sabato, anticipa Cinguetti, useremo le prime 200 dosi di vaccino Moderna che ci sono state assegnate. La seconda dose è prevista dopo un mese. Quindi questo appunto è arrivato, come avevamo anticipato già nei giorni scorsi, sono arrivate le prime dosi di Moderna e verranno utilizzate domani. E se verranno confermate le forniture previste, il piano vaccinale proseguirà. Tramite gli ordini professionali che ci forneranno gli elenchi, vaccineremo infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicologi e altri professionisti di ambito privato. Subito dopo, parallelamente, affronteremo la campagna di prevenzione per le persone dai 75 anni in su, con un particolare impegno verso gli over 80. In provincia le persone con un'età compresa tra i 75 e i 79 anni sono poco più di 10.000, mentre gli ultraottantenni sono circa 15.000. Ci fermiamo ancora un attimo qui a pagina 5. In vista del possibile passaggio in fascia gialla, si stanno attrezzando anche i luoghi della cultura. Pensiamo a Palazzo Fulcis. Distanze e radioline, i musei preparano la riapertura gialla. A Palazzo Fulcis si valuta la possibile proroga delle mostre. L'ongarone si organizza con i volontari del servizio civile. Sarà il giallo il colore della speranza per la cultura? Pare sempre più probabile che il Veneto possa rientrare appunto in una zona di minore attenzione nel complesso scacchiere della lotta al Covid-19. Al Museo Civico di Belluno tutto è pronto per riaprire alle visite delle collezioni stabili e si valuta anche l'opportunità di chiedere la proroga per alcune mostre che erano state bloccate in novembre dal DPCM. Avevamo già contattato i proprietari dei quadri dei due artisti, di Alessandro Seffer e Federico Velluti, per proporre una proroga di due mesi alla mostra, spiega l'assessore Marco Perale. Dovremo valutare se ci saranno le condizioni per mettere in moto la macchina organizzativa necessaria. A Longarone i lavori di preparazione per le attività relative al nuovo anno sono cominciate già da molto tempo. Ora che questa eventualità, quella di poter riprendere e ospitare i visitatori, sembra più concreta, si può dare via alla pianificazione delle iniziative relative alla primavera e all'organizzazione delle visite per gruppi. Anche a Serravella il Museo Etnografico a Cesio Maggiore fermano i preparativi per poter tornare ad ospitare i visitatori in attesa di capire quali saranno i giorni di possibile apertura. Se sarà possibile apriremo nei fine settimana, ma se si dovesse basare solo sui feriali, ci organizzeremo con il personale per aprire da lunedì al venerdì, dando la possibilità a tutti di prenotare secondo gli orari preferiti. L'articolo in questo caso è di Fabrizio Ruffini. E poi a pagina 6 e a pagina 7 c'è un approfondimento che anticipavamo prima che riguarda il circo bianco, il turismo sulla neve. Tra rabbia e sfiducia, operatori in piazza con nove flash mob. Almergatori, maestri di sci, ristoratori, lavoratori stagionali pronti a ripartire, ma la stagione è ormai andata. In questo caso c'è un articolo di Gianni Santomaso. Sono pronti a onorare la stagione nonostante le incertezze, ma chiedono comunque ristori che facciano fronte alle spese che non sono mai venute meno. Ieri sono scesi nuovamente in piazza per protestare gli operatori del turismo e del commercio. Nove flash mob in tutta la provincia, da Lega, da Oronzo, da Faradalpago a San Vito, da Belluno a Pedavena, da Rocca Pietro a Val di Zoldo, per concludere in Agordo. Tutti uniti per chiedere lavoro e ristori. E tutti attorno ci sono le testimonianze che arrivano dal territorio. Per esempio c'è Letizia Frigo, che è titolare dell'agenzia di viaggi Trecime Dolomiti da Oronzo. E poi ancora Zande Giacomo, Ivana Zande Giacomo Bianco, che oltre a Ribotta Bard di Tagliarezze è titolare del piccolo ristorante La Stadiere, inaugurato nel 2019 e siamo sempre ad Oronzo. Poi c'è stato un flash mob sul piazzale del Nevegall, dove si è sottolineato come la sicurezza sia garantita per chi decide di salire sul colle. Lo stesso dice anche Fabrinetti, Mario Fabrinetti, proprietario del noleggio Rent & Go, che si dice ottimista, anche se non dimentica le difficoltà di questa prima parte dell'inverno. Antonio Bona per gli albergatori dell'Alpago, così la montagna muore. Antonio Bona ha un'attività di affittacamere e appartamenti a Tambre e ha testimoniato difficoltà e disagi. E poi ancora ci sono le testimonianze dalle zone di Pedavena, lo stesso Gorza, lo stesso Lionel Gorza, il padrone di casa della birreria Pedavena, che tra l'altro svolge il ruolo di presidente del consorzio turistico Dolomiti Prealpi. Chiudiamo la parte dedicata alle notizie non solo bellunesi ma anche veneti, andiamo nello specifico alle pagine che sono dedicate alla provincia di Belluno e siamo in questo caso a pagina 21, dove si torna a parlare del tema elettrodotti, l'articolo di Alessia Forzin. E' allarme a Limana e Borgo Valbelluna, linee potenziate sopra case e scuole. Amministratori preoccupati per le ricadute del progetto di razionalizzazione si è spostato il problema su altri territori. Ricordiamo nei giorni scorsi, esattamente due giorni fa, è arrivato l'annuncio positivo da parte di Terna, con la decisione appunto annunciata di interrare nella zona di Andreane, ma anche vicino all'aeroporto di Belluno, ma anche fra Ponte nelle Alpi e Soverzene. Però, come era ipotizzabile, i problemi vengono spostati su altri territori e sale appunto la tensione a Limana e Borgo Valbelluna. Le linee di trasporto Polpette-Scorzè e Polpette-Vellai attraversano il territorio dell'intera Valbelluna. Gli amministratori sono preoccupati per le ricadute del progetto di razionalizzazione. Limana ha i tralicci che passano molto vicini alla scuola elementare, al Palimana e all'area ricreativa, dove sono stati fatti investimenti di ricente. Le linee che passano in quella zona oggi sono scariche. Quando sarà completato il progetto di Terna funzioneranno a pieno regime e ovviamente questo ci preoccupa, afferma il vice sindaco Edi Fontana. Preoccupazione c'è anche per Borgo Valbelluna. Sono in linea con Limana, dice il sindaco Stefano Cesa. Chiediamoci se è un piano generale di riassetto delle reti. Non è pensabile che le linee che attraversano il nostro territorio vengano potenziate, passano sopra case vicino ad edifici pubblici. Posizione sul fatto che la necessità sia quella di interrare lungo l'A27 o faremo ricorso, come si legge nel titolo, sono d'accordo i comitati civici. 12 anni fa Gigi Fontana ha scoperto che il borgo in cui vive Andreane sarebbe stato attraversato da una linea elettrica che oggi non c'è. Da allora si batte contro il progetto di Terna. Però Fontana non è soddisfatto della soluzione prospettata perché dice non è questa appunto la soluzione. Se l'avessero proposta dieci anni fa mi sarei accontentato, ma oggi no. Questo progetto avrà ricadute su molte altre territori. Posizione condivisa da tutti i comitati civici attivi a Ponte nelle Alpi, Andreane, Levego, Limane e Castionese. Questo risultato è parziale e in guai al resto della popolazione, spiega Carmen Crespo di Limana. Ci siamo sempre battuti per risolvere le criticità di tutti e non si può fare spezzettando gli interventi. Anche a Ponte nelle Alpi non si festeggia. Come rappresentante del comitato Stop Elettro Smog, spiega Paolo Pesce, non ho nulla per cui brindare. Quindi non tutte le soluzioni proposte soddisfano l'intero territorio. Andiamo avanti e prima di passare al gazzettino leggiamo le notizie che riguardano l'avvicinarsi dei mondiali. In questo caso siamo a pagina 31. Stop al traffico pesante di attraversamento. Mondiali senza tir di passaggio lungo l'Alemagna e la Carnica, sì ai trasporti legati alle attività economiche dolomitiche. Stop per tutto il periodo dei mondiali al traffico di attraversamento dei tir di passaggio, sì invece appunto al transito dei mezzi pesanti che partono o arrivano nel Bellunese o nelle province circostanti per consentire al territorio di continuare a lavorare. E' questo in estrema sintesi il piano per la viabilità lungo la 51 di Alemagna e la 52 Carnica annunciato ieri dal prefetto Sergio Bracco durante una videoconferenza che ha raccolto i rappresentanti degli enti locali, delle forze dell'ordine e delle categorie economiche. Un piano di alleggerimento del traffico pesante per garantire lo svolgimento dei mondiali senza fermare il flusso delle merci che verrà nelle prossime ore dettagliato ufficializzato con un'ordinanza ma che nelle sue linee di massima è stato accolto positivamente dagli operatori del territorio. Per tutta la durata dell'evento che ricordiamo sarà dal 7 al 21 febbraio verrà così sospeso il traffico pesante di semplice attraversamento, quello di passaggio. I tir, per fare un esempio, che scendono dalla Germania lungo la 51 di Alemagna diretti a Roma dovranno scegliere rotte alternative. I mezzi pesanti che partono carichi dal territorio bellunese o che arrivano a scaricare le loro merci potranno invece viaggiare regolarmente tranne che nel periodo del fine settimana dalle 15 del venerdì alle 22 di domenica. E poi c'è il punto sui mondiali in un articolo sempre di Alessandra Segafredo con le dichiarazioni anche del sindaco di Cortina Gian Pietro Ghedina uno spot celebra la Cortina iridata vince la squadra che fa sistema al via da sabato la diffusione sulle reti Rai del video che promuove l'evento sportivo non abbiamo mai smesso di crederci l'Italia accende il futuro vince la squadra che fa sistema queste le parole del nuovo spot che da sabato sarà trasmesso sulle reti Rai a pubblicizzare i mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina dal 7 al 21 febbraio un video con Christian Ghedina campione dello sci con gli atleti di casa i maestri di sci un video che mostra la bellezza della conca delle sue piste e la forza del team Passiamo al gazzettino come anticipavo nella prima dell'edizione del nord-est si parla ovviamente del piano vaccinale si legge vaccini tocca agli ottantenni dal 15 in Veneto inizierà la somministrazione agli over 80 subito dopo in parallelo ai 75 anni andiamo subito alle pagine dedicate alla provincia di Belluno il titolo di apertura è dedicato anche qui ai mondiali di sci campioni pronti a invadere Cortina fra dieci giorni la prima gara dei mondiali di sci alpino la fondazione dice al lavoro 500 persone 20 gatti delle nevi e decine di motoslitte per tirare le piste come biliardi il sindaco rimaniamo quindi a parlare dei mondiali grande evento la prima tappa in vista dei giochi questo mondiale è un evento straordinario eppure non è un traguardo ma una tappa intermedia sulla strada che porta appunto alle Olimpiadi del 2026 dice Ghedina e ancora il turismo reagisce fateci lavorare o sarà la fine altre nove proteste pacifiche da Falcade ad Agordo da Pedavena ad Auronzo è l'articolo con le testimonianze che leggevamo prima sul Corriere delle Alpi e per quanto riguarda l'apertura degli impianti l'assessore al turismo della regione Caner dice stabilire la data per la riapertura il governo stabilisca con certezza la data per la riapertura degli impianti lo chiede l'assessore al turismo appunto Federico Caner e ancora la foto di copertina è dedicata all'allarme che è stato lanciato dall'assessore regionale Gian Paolo Bottacin l'allarme i laghi resteranno a secco e andiamo subito proprio a leggere questo articolo che riguarda il deflusso ecologico laghi in pericolo la nuova normativa ipotizzata dall'Europa prevede di aumentare la fuoriuscita dell'acqua dagli invasi la modifica in base a simulazioni regionali porterebbe a cambi sostanziali sotto l'aspetto ambientale e turistico l'articolo affirma di Davide Piol il rischio è che i laghi rimangano a secco ma che manchi anche l'acqua per irrigare i campi diminuiscano i canoni idrici versati a Palazzo Piloni e ancora che alcune comunità biologiche di lago scompaiano e che i turisti decidano di andare altrove è lo scenario prospettato dall'assessore regionale all'ambiente Gian Paolo Bottacin nel caso in cui venisse applicato in maniera rigida l'ultima normativa europea con cui il vecchio deflusso minimo vitale dei fiumi viene sostituito dal deflusso minimo ecologico il tema presenta delle forti preoccupazioni sulle quali avevamo iniziato a dare i primi segnali d'allarme oltre due anni fa ha spiegato Bottacini in commissione consigliare senza le dovute attenzioni a causa di normative europee a volte contrastanti e non rispondenti alle esigenze del nostro territorio il rischio concreto è che i laghi siano per tutto il periodo estivo completamente vuoti il deflusso minimo vitale è quel quantitativo d'acqua rilasciato da un qualsiasi impianto interoelettrico in grado di garantire la naturale integrità ecologica di un lago di un fiume o di un torrente ma in cosa si differenzia rispetto al deflusso minimo ecologico si tratta dell'ennesima normativa europea che non solo mette in croce l'ambiente ma anche tutto ciò che vi è intorno ha continuato l'assessore regionale perché quello che apparentemente è solo un nome nuovo a un processo in realtà imporrà di aumentare sensibilmente le portate dei corsi d'acqua e questo anche se potrebbe sembrare una cosa sensata soprattutto per preservare fauna e flora dei fiumi avrà come prima conseguenza quella di svuotare i laghi di montagna uccidendo quindi habitat lacustre lo confermerebbero le simulazioni eseguite dalla regione nella maggior parte del tempo l'acqua dei laghi non sarebbe garantita nemmeno in estate ciò rischia di mettere in forte crisi alcuni settori tra i quali ad esempio quello turistico nel 2015 il centro cadore insorse per difendere il lago da svuotamenti e laminazione fu addirittura consegnato un esposto in procura tramite l'avvocato Rocco Bianco per avviare gli accertamenti e stabilire se gli svuotamenti del lago fossero o meno legali quello dei corsi d'acqua è un problema annoso che rischia però di assumere contorni drammatici come ha voluto sottolineare Bottacin non va inoltre trascurato il tema dei cambiamenti climatici dice tanto presenti nelle discussioni ma che non sembrano essere stati tenuti in conto nel gestire questa partita che infatti non considera nell'applicazione di tale deflusso ecologico le annate caratterizzate da elevate temperature e la conseguente scarsità d'acqua quindi tanta preoccupazione leggiamo un ultimo articolo prima di chiudere la rassegna di oggi e andiamo a leggere due una triste notizia siamo in questo caso ad Agordo è morto a 57 anni Gigi Corazza commercio e sport in lutto commercio e sport a gordini in lutto per la morte di Luigi Carlo Corazza un tumore se l'è portato via nel giro di un mese gettando nello sconcerto e nel dolore i familiari gli amici e i colleghi del centro storico dove con la sorella gestiva la macelleria di famiglia e mentre in queste ore avrebbe dovuto preparare gli sci per partecipare all'ennesima marcia longa a cui si era scritto anche quest'anno oggi invece il 57enne riceverà l'ultimo saluto Corazza detto Gigi era una delle anime della contrada dei signori la via pedonale del centro storico di Agordo lo si vedeva sempre operativo dietro al bancone della sua macelleria avviata dal padre una sessantina di anni fa afferma Claudio Sito assessore e gli stesso commerciante in pensione ma erano frequenti anche le sue incursioni in bicicletta o sugli sci di fondo un grande appassionato degli sport e di fatica quanti chilometri si è fatto tra salite impervie ed eventi meteo di ogni tipo proprio domenica 31 gennaio avrebbe dovuto partecipare alla marcia longa come ormai faceva da una vita così come ha partecipato a manifestazioni estreme per esempio andando in Canada o in Estonia durante le pause di lavoro o comunque nei giorni liberi appena poteva scappava a rigenerarsi mente e corpo ma era anche sempre presente alle iniziative organizzate tra colleghi commercianti per la valorizzazione del centro in passato è stato animativa delle associazioni dove ha sempre portato il suo contributo intelligente e fattivo amava Agordo e ha sempre fatto tutto ciò che era possibile per rilanciarlo al meglio eravamo colleghi dice sito ma anche clienti reciproci e pure amici le condolianze e la famiglia arrivano anche dalla consulta scondiagordo per voce del presidente Roberto Schenna perdo un amico a ferma ma anche un collega titolare di una delle botteghe storiche del paese che con tanta cura e dedizione gestiva assieme alla sorella è un dolore per l'intera comunità perdere pezzi da 90 come Gigi una persona sempre attiva e propositiva Corazza lascia la compagna Sara la sorella Marra nipote Francesco il fratello Franco e la cognata Dorina il funerale oggi appunto alle 14.30 nella chiesa di Agordo proprio come si leggeva prima a soltanto due giorni da quella che avrebbe dovuto essere la sua partecipazione all'ennesima marcia lunga per cui si era iscritto anche quest'anno con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi vi invitiamo a seguire le notizie che continueremo per tutta la giornata a pubblicare sul nostro sito internet www.amicodelpopolo.it per quanto riguarda la rassegna stampa l'appuntamento è domani mattina alle 8.30 sulle frequenze di Radio Piave e poi anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo intanto un sereno venerdì a tutti un buon fine settimana grazie per l'ascolto e a prestissimo arrivederci